Nel caso delle congregazioni religiose, io sono un salesiano, noi abbiamo circa 200 scuole, tra scuole e centri di formazione professionale, noi non abbiamo un euro dall'otto per mille, un euro dal Vaticano, la gente crede che abbiamo i soldi al Vaticano, abbiamo zero. Ma Don Zanini, io ho una proposta da farle, ma non potete rivalutare la vendita delle indulgenze arrivati a questo punto? Questa è una bella idea, per ritornare ai vecchi tempi, avremo un nuovo lutero, entusiasmo nella chiesa, nell'allungio della parola di Dio, mi piace, bravo. Una bella vendita delle indulgenze, risolviamo tutti i problemi, ci togliamo tutti. Torniamo le 1500. Eh sì. Però per vendere le indulgenze ci vorrebbe una bella coscienza di avere dei peccati, mi sembra che questa coscienza sia un po' diminuita. Ma no, penso di no. Ma no, ma ci sentiamo tutti un po' peccatori.